Demo Days 2024 la manifestazione è arrivata alla sua seconda edizione in cui i motori Curler Engines vengono applicati ai vari mezzi industriali e protagoniste del 2024 sono soprattutto due motorizzazioni le KSD e le KDI che trovano alloggio nei box motori di macchine movimento terra per il sollevamento lo scavo e la movimentazione ma anche macchinari agricoli andiamo a scoprire quali grazie alla collaborazione con partner di rilievo come Caron, Cormiti, JCB, MDB, Merlo e MultiOne l'evento ha fatto toccare con mano e sperimentare in prima persona le performance dei mezzi allestiti con i motori Curler quest'anno i riflettori erano puntati sulla serie KSD in produzione dal 2023 un'unità da 1,4 litri con una coppia davvero elevata 90 Nm a 1800 giri nella versione aspirata che salgono a 105 Nm nella versione turbo fino a 120 Nm in quella con after cooler con le dimensioni di 1100 cm3 il KSD diventa perfetto come vedremo in questo video per applicazioni ultracompatte ma che necessitino di coppia e di potenza a basso regime ottenibile di solito con motori molto più grandi grazie a tanta tecnologia come dimostra in questo caso l'iniezione completamente elettronica. Accanto alla serie KSD i Demo Days hanno portato tanto spazio anche per un altro motore ormai storico di cooler grazie alla sua affidabilità e alle prestazioni il KDI 2504 si tratta del frazionamento a quattro cilindri da 2,5 litri che copre un range di potenze tra i 40 e i 75 cavalli grazie soprattutto al common rail ad alta pressione e alle quattro valvole per cilindro. E allora andiamo a scoprirle assieme queste applicazioni agricole e movimento terra al cui interno pulsano i cuori di cooler partendo da Caron specializzato nella costruzione di transporter agricoli in particolare il C50 con il tre cilindri cooler KSD da 1,4 litri che garantisce alti valori di coppia a bassi regimi senza superare i 19 kilowatt eliminando quindi la necessità di sistemi di trattamento dei gas di scarico con un peso complessivo di 5.000 kg e portate fino a 3.200 kg questa serie offre la massima produttività e adattabilità in molteplici contesti. Il mini damper Cormidi CMF 1500 monta un motore KSD stage 5 da 18,4 kilowatt che contribuisce a una capacità di carico di 1.500 kg. Il sistema quick attach rende questo mini damper estremamente versatile permettendo di cambiare l'assetto della macchina per l'installazione rapida di numerose attrezzature come cassoni di trasporto, mini pale e piattaforme di sollevamento. Il mini escavatore JCB25Z1 dotato di KSD da 18,4 kilowatt è una delle eccellenze nel segmento delle 2,5 tonnellate. Ha comandi proporzionali di serie e migliora nella controllabilità garantendo prestazioni elevate a partire da un consumo di carburante inferiore del 5% rispetto alla precedente generazione. Stessa famiglia ma ambiti diversi e soprattutto cuori differenti. Agli open days anche un sollevatore JCB Agriplus 525-50 che monta un color KDI 2504 in grado di erogare una potenza di 75 CV. Viene montato in posizione ribassata per garantire la massima visibilità sul lato pur essendo presente un filtro particolato per la riduzione delle emissioni. I green climber di MDB sono dei portattrezzi radiocomandati progettati per operare in condizioni estreme che impiegano i motori KSD per via della loro compattezza propedeutica a mantenere un baricentro macchina molto basso. La configurazione elettronica del motore combinata al turbo compressore assicura prestazioni ottimali in tutte le condizioni riducendo la necessità di manutenzione e i costi operativi elevati a lungo termine. Merlo con il P27.6 prevede una disposizione del motore termico secondo l'originale layout di montaggio in direzione longitudinale sul lato destro del telaio. Equipaggiato con un Kohler 2504 TCR da 55,4 kilowatt a una gestione elettronica del sistema di iniezione che permette a Merlo di regolare con precisione l'erogazione di potenza in base alle esigenze operative. E chiudiamo questa ricara segna delle applicazioni Kohler per le macchine compatte industriali con il mini loader MultiOne 6.3 EDS equipaggiato con il motore KSD aspirato naturalmente che con i suoi 25 cavalli e l'elevata coppia da 90 Nm può sollevare oltre 1100 kg unendo la forza alla facilità di trasporto supportato da un sistema idraulico high flow che ne aumenta la potenza.